Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale perché oggi vi voglio portare una suona di collezione che è un pochino più di un ritrovamento di quelli che avevo da piccolino pokemon fanbook e si capisce anche che sono abbastanza adattati perché comunque sono tra le lire e gli euro quindi questa è la data del 95 e anche abbastanza distrutto quindi ha tenuto botta un bel po poi ovviamente ce ne ho degli altri che non sono precisi cioè non sono tutti numerati perché tipo vedete c'ho l'1, il 3, il 4, il 2, il 6, il 20, il 21, il 7 che erano ancora in lire e poi si vede un po' il giallo delle pagine proprio questo era proprio il primo io sono Ash che parte proprio perché si ricorda anche questa scena del cartone proprio sa di quel vecchio e poi c'ho anche il 2 che questo me l'hanno me l'hanno regalati per compilare per compilare il compilanno che? ah che? hanno fatto lo scambio con il tipo qua non c'è la data di questo? come no? ah no c'è dov'è? comunque un po' di riferimento 2000 e poi c'è comunque il 3, il 4 e il 2 e così poi non vado proprio in ordine questo è un po' di riferimento di questo tipo febbraio febbraio 2001 ricordi proprio quando ero veramente veramente piccolino questo è ioto urnais ok poi c'è il poker rap conta che c'è molto cioè mamma mamma mia cioè proprio proprio super 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 stravecchi questo 2000 c'è proprio che poi io da stupidamente gli insegnavo perchè da piccolino non so cosa mi passava per la testa ma li scriviamo tutti che adesso non li farei manco se mi pagassero sotto tortura che con lì comunque diciamo e poi cioè questo è un po' strappato questo era il continuo di questo qua sì perché il 21 che era già diciamo con chikorita vedete con chikorita eccetera eccetera poi l'ultimo che è il numero 7 con con la copertina missy starmi non so perchè in quello è che qua pokemon oltre il cielo dell'avventura la canzone che comunque si qua il numero 7 è arrivato che andava a sfidare missy ecco questo è un ritrovamento proprio tanta tanta roba che questi già sono veramente veramente abbastanza vecchi e niente ve li volevo mostrare con un video dedicato e niente ci vediamo poi a un prossimo appuntamento balla balla